Angelo Riccardi ha più volte ribadito di voler continuare a fare il sindaco di Manfredonia fino al 2020, ma se dovesse capitare l'occasione di ricoprire la poltrona di presidente dell'ASI, non si tirerebbe indietro. Lui è sempre pronto. Io sono sempre pronto. Non devo nascondere quello che è evidente, c'è anche una possibilità che mi può riguardare, come può riguardare molti altri. Solo all'ASI o anche da altre parti? No, no, io ho detto, chiedo abbastanza chiaramente, che mi occupo e voglio continuare a occuparmi del comune di Manfredonia fino al 2020, dopodiché le altre questioni sono del tutto irrilevanti dal mio punto di vista. Non è il sindaco, non è in fuga, come qualcuno vuol far passare il sindaco. Il sindaco fa il sindaco così come è stato deciso dagli elettori fino al 2020, poi il destino della nostra città saranno rimessi nelle mani degli elettori. Se qualcuno deciderà, per fini speculativi o personali, che questa esperienza deve terminare, ma non per vicende politiche, se ne assumerà la responsabilità.